Era la notte tra il 31 luglio e 1 agosto del 2019, il Dipartimento Arpacal di Catanzaro fu colpito da un incendio che ne distrusse gran parte della strumentazione di alta tecnologia e rese impraticabile per diversi mesi, un'area dello stabile interessato dalle fiamme. Dopo una lunga e complessa opera di ripristino dei locali e di acquisto di nuove strumentazioni, il tutto rallentato dalla pandemia dell'ultimo bienio, è ritornato in piena attività il laboratorio di gas cromotografia che in particolare serve a determinare inquinanti organici come i pesticidi, macchine molto sensibili che riescono a determinare anche quando sono presenti in tracce le acque potabili ed acque superficiali. Io sto provando ad allineare insieme a tutti i miei collaboratori l'agenzia all'intero sistema nazionale, appena arrivai qui e tra l'altro fui accolto da questo incendio drammatico perché rischiò l'intero stabile di andare in fumo, grazie ad un poteroso intervento dei Vici del Fuoco la situazione fu abbastanza circoscritta e da allora abbiamo preso questo impegno di ripartire con determinazione e oggi credo restituiamo alla città di Catanzaro, alla regione Calabria un laboratorio di altissima qualità perché poi abbiamo utilizzato l'occasione non solo per fare una ristrutturazione degli spazi che erano andati distrutti ma abbiamo fatto un vero e proprio revamping delle attrezzature, quasi 3 milioni di euro di investimenti che in questo momento hanno allineato se posso dirlo o se non messo anche in un contesto di superiorità la nostra agenzia alle altre arpe italiane. Assolutamente ma non solo per l'ARPA Calabria ma per tutto il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente perché il rafforzamento della rete dei laboratori è un obiettivo preciso previsto dalla legge 132 ma è un obiettivo che ci siamo posti all'interno del Consiglio SNPA proprio perché riteniamo strategico ed importante dotare le agenzie regionali e tutto il sistema di infrastrutture laboratoristiche che mettano poi al passo con i tempi e rendano efficienti, efficaci, incisive le operazioni di controllo, monitoraggio sul territorio e per tutte le matrici di pressione sull'ambiente. L'occasione è stata propizia anche per specializzare le linee laboratoristiche di Catanzaro come quelle dedicate specificatamente al progetto SARI dell'Istituto Superiore di Sanità che allo scopo di mettere in evidenza l'eventuale presenza dell'agente patogeno del Covid-19 nelle acque che giungono ai depuratori.